La denuncia in un video della consigliera comunale del Partito Democratico, Annelisa Petitto, sulla circostanza che riguarda la chiusura del blocco operatorio dell'ospedale Sant'Elia a causa di un allagamento dei bagni nell'occasione del temporale che è avvenuto in città lunedì. Sono davanti al Sant'Elia per fare l'ennesima denuncia pubblica. Da circa le 14.30 di ieri l'intero blocco operatorio dell'ospedale Sant'Elia è totalmente fuori uso sia per le attività di chirurgia in emergenza che di urgenza che le attività ordinarie. Oggi diverse persone mi hanno chiamato raccontandomi di essere stati rispediti a casa, di essere stati dimessi perché non potevano essere operati, operazioni previste per oggi. La causa sarebbe lo straripamento delle acque, dei servizi igienici, delle aree antistanti, le sale operatorie con il conseguente allagamento e tutto a causa delle forti piogge. Ebbene, se è ammissibile che salti un tombino per le strade, non è assolutamente ammissibile che una pioggia possa comportare l'arresto di tutta l'attività chirurgica di un intero blocco operatorio che costa di otto sale operatorie. Io chiedo che la direzione strategica dia immediate notizie ufficiali alla cittadinanza e questo anche in considerazione del fatto che mi risulta che da provvedimenti interni sia stato già diramato l'ordine di dirottare verso altri presidi ospedalieri limitrofi sia le urgenze che le emergenze. Ritengo che la cittadinanza debba sapere le tempistiche entro le quali il ripristino delle sale operatorie del Sant'Elia saranno nuovamente garantite. Faccio appello ovviamente anche al sindaco affinché intervenga immediatamente presso questa direzione strategica.